Proseguite le indagini a carico di vertici societari di Costa Crociere e Carnival, a chiederlo il pool di legali dei naufraghi unito sotto la sigla Giustizia per la Concordia, che ha depositato il 6 agosto alla procura di Grosseto la richiesta di prosecuzione indagini per verificare le responsabilità attribuibili alla società per il disastro. A renderlo noto gli avvocati Alessandra Guarini, Cesare Bulgaroni e Massimiliano Gabrielli, che spiegano che la richiesta è incentrata sulle novità apportate dalla perizia depositata a giugno dagli esperti nominati dal Collegio del Tribunale di Grosseto, che sta procedendo contro Schettino. Dalla suddetta perizia risulta con evidenza, sostengono gli avvocati, che gli ascensori di bordo e il motore diesel generatore di emergenza presentavano difetti di realizzazione attribuibili completamente alla società armatrice di proprietà di Carnival. Si auspica così, proseguono, che finalmente anche i vertici societari di Costa e Carnival siano sottoposti a processo penale, anche per evitare di vederli presto tenere qualche lezione universitaria sulla sicurezza a bordo delle navi. Chiara allusione questa alla contestata lezione di Schettino all'Università La Sapienza. Nell'aprile 2013 il gruppo di avvocati presentò una denuncia contro i vertici di Costa S.p.a. e della capogruppo americana Carnival S.p.a., ipotizzando responsabilità penali collegate al naufragio del Giglio. La procura di Grosseto aprì un fascicolo ma poi ha chiesto l'archiviazione, ma sulla vicenda il GIP non si è ancora pronunciato. Ora gli avvocati di parte civile, alla luce delle novità emerse nel processo, chiedono alla procura di ritirare la richiesta di archiviazione e fare nuovi accertamenti.